Fano Rastat, unite da 30 anni di gemellaggio attraverso contatti umani, scambi culturali e progetti artistici comuni come la Fontana Vangi e interscambi socio-economici. Elencare tutto ciò che in questi anni ha prodotto fruttuosi rapporti, che sono andati anche oltre i colori politici, le rispettive realtà economiche, gli interessi di sviluppo turistico, sarebbe ben difficile. Ma oggi nella Sala della Concordia abbiamo assistito ad uno di questi poliedrici aspetti fra i più intensi e carichi di significato che si rinnova da oltre 20 anni. Studenti coetanei di licei, per Fano gli alunni della quarta B del liceo Nolfi e per Rastad una ventina di ragazzi del liceo Wilhelm con 300 anni di storia, dal 16 al 23 marzo hanno vissuto un'intensa settimana, ospitati con i loro insegnanti in altrettante famiglie fanesi. Un'esperienza non solo culturale, sottolinea l'assessore Mascarin, ma anche sociale e democratica in un'Europa che tende ad alzarle le barriere anziché a batterle. Soprattutto negli ultimi anni la dimensione europea per quanto riguarda anche l'istruzione secondaria superiore è diventata una necessità per tutti i paesi europei, per la Germania come lo è per l'Italia e la possibilità in particolare per le studentesse e gli studenti che studiano le lingue di avere dei momenti di approfondimento anche didattico in altri paesi europei come in questo caso è un arricchimento che chiaramente riguarda non solo l'esperienza umana e civile che possono fare i più giovani, ma anche dal punto di vista della formazione e della didattica. Tema trainante quindi l'Europa e i cittadini europei di domani come questi ragazzi, riuniti stamattina nella sala della Concordia per il saluto ufficiale della città. Sì, abbiamo messo in contatto delle nostre associazioni, già nel passato degli scambi tra calcio, calcio amatori e calcetto c'erano stati, vogliamo aprirlo anche ad altre discipline, anche giovani, stiamo provando con il frisbee, con altre realtà e questo può essere molto interessante anche per fare un confronto di come si vive l'associazionismo in altri paesi. Grazie. 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 Grazie.